Ecco come questa mattina, venerdì 9 settembre, si presentava la situazione della viabilità in via Carducci a Portoferraio, traffico rallentato a causa di due cantieri aperti da Asa. Il primo, quello più vicino all'incrocio delle ghiaie, è aperto da alcuni giorni e riguarda interventi sulla rete fognaria. Il secondo, nei pressi dell'incrocio, per viale Tesei, è per un intervento di sostituzione di un breve tratto della tubatura idrica. È questo che nella mattinata ha creato qualche episodio di torbidità dell'acqua che usciva dai rubinetti, che Asa assicura come transitorio. L'intervento dovrebbe terminare già da stasera o al più tardi, nella mattinata di sabato 10 settembre.